Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo che ha scatenato in città una vera e propria mania, soprattutto nei tifosi di Fede Bianconera, ma anche in tanti esercenti e negozi che sperano così di rivitalizzare le proprie vendite, Torino ha rischiato di avere un'altra concittadina famosa in tutto il mondo, Luis Veronica Ciccone in arte Madonna. Ed è mancato veramente poco. La celebre star della musica nelle vesti di mamma aveva pensato al capoluogo subalpino per far crescere il figlio David di 12 anni, intenzionato ad entrare nel mondo del calcio da professionista. Era stata individuata persino la Juventus Academy School per il figlio della pop star, che poi ha rinunciato a Torino, ritenuta città non adeguata per far crescere i propri figli. In un'intervista esclusiva a Vogue Italia, la cantante ha rivelato alcuni dettagli interessanti e considerazioni su Torino che faranno discutere. Ho cercato di immaginarmi come sarebbe stato vivere in una città europea per coniugare gli interessi calcistici del figlio e quelli degli altri bambini. Barcellona è una città fantastica e anche Torino mi piace, ma mi sembra non adatta ai bambini. Secondo la cantante, infatti, la nostra città andrebbe bene per gli intellettuali, con tutti quei bellissimi musei e palazzi imponenti, ma non è alla portata dei ragazzi che qui non si sarebbero divertiti. Ecco che così la scelta è caduta sulla capitale portoghese, Lisbona ritenuta nel complesso la scelta migliore.